Dai un'occhiata a queste barzellette. Sono una vera rivelazione. A causa di imprescindibili esigenze di budget, si comunica che sono state adottate alcune misure per ridurre i costi di esternalizzazione e per salvaguardare i margini di progetto. Con specifico riferimento al presepe, con decorrenza immediata si dispone che 1. Gli angeli che annunciano la natività passano da 2 a 1. 2. Il capo progetto deve verificare la possibilità che San Giuseppe, nel cuore orario di visita dei pastori, possa eventualmente affiancare e sostituire l'angelo rimosso. 3. Il bue e l'asinello a partire dal giorno della Befana vengono allocati su un altro progetto. 4. L'intervento dei remagi, costituenti una costosa esternalizzazione per di più in trasferta estera, decorrerà contrattualmente ed operativamente a partire dall'anno nuovo. Inoltre, come mezzo di locomozione per il ritorno, useranno a turno l'asinello di cui è il punto precedente. 5. I pastori adoranti avranno a disposizione una sola pecorella a turno. 6. Per la riduzione dei costi è previsto lo spegnimento della cometa a partire dalle ore 22. 7. Per evitare inutili affollamenti nel suddetto periodo vengono sospese le conversioni e le attività di proselittismo religioso. Pregasi inoltre l'amministrazione di considerare l'affitto della mangiatoia e il leasing della culla in alternativa all'acquisto. Chi fu il primo radiotecnico della storia? Adamo, perché con una costola costrui un autoparlante? Adamo, ti sembra questa l'ora di rincasare? Lascia stare Eva. Una fila! Un turista si recca sul lago di Nazareth dove, tantissimo tempo fa ed in tempi più tranquilli, Gesù camminò sulle acque. Il turista chiede ad un pescatore di portarlo con la barca sulla riva opposta del lago. Il pescatore lo fa accomodare e remando di buona lena lo trasporta sull'altra riva. A quel punto il turista chiede al pescatore, scusi vorrei ricompensarla per avermi aiutato, quanto le devo? Beh, se proprio vuole pagarmi mi dia 300 euro, ma non sarà troppo caro. Veramente signore, qui tanto tempo fa Gesù camminò sulle acque e te credo che ha camminato sull'acqua a costi prezzi. Tre figli ebrei lasciarono la loro casa, si resero indipendenti, prosperarono. Quando si riunirono di nuovo, parlarono dei regali che avevano potuto fare alla loro madre. Il primo disse, io ho costruito una casa enorme per nostra madre. Il secondo disse, io le ho mandato una Mercedes con l'autista. Il terzo disse, vi ho battuti entrambi. Voi sapete quanto piaccia alla mamma leggere la Torah e sapete che non ci vede molto bene. Io le ho mandato un gran pappagallo marrone che sa recitare la Torah nella sua interezza. Ci sono voluti 20 anni a 12 rabbini per insegnarglielo. Io ho contribuito con un milione di dollari all'anno, per 20 anni, ma ne è valsa la pena. Mamma deve solo nominare il capitolo e lui lo recita. Poco dopo mamma inviò le sue lettere di ringraziamento. Scrisse al primo figlio, Maurizio, la casa che hai costruito è così grande. Io vivo in una stanza sola, ma devo pulire tutta la casa. Scrisse al secondo figlio, Mosè, sono troppo vecchia per viaggiare. Resto tutto il tempo in casa, quindi non ho mai usato la Mercedes. Scrisse al terzo figlio, carissimo Manuele, sei stato l'unico figlio che ha avuto il buon senso di sapere cosa piace a sua madre. Il pollo era buonissimo. Perché Dio ci ha creato con un solo mentor? Perché non poteva fare altrimenti?